Stavo sopra la spiaggia e disse ora vi faccio vedere io e partì che trennava per vedere un sorta di giro voleva fare però non poteva mai sapere che aveva chiacchissi dalla nanzi e chissi stavano tranquilli tranquilli per il cazzo loro ci fumavano la pipa, ci scevano sotto la cavata ci facevano i codini, capito? insomma l'hanno acceso a tutti allora sempre chissi hanno pensato vado e ora per noi ci aveva fatto il ghetto allora chissi hanno scelto chissi e ci hanno detto uè spazzate le gambe volete o non volete la vita è venuta con noi e che la forza se le cacciarono poi chissi hanno sbagliato a chissi chissi hanno sbagliato a chissi l'occhio, le pinguine, insomma un acido è praticamente chissi poi che avevano le figlie e le putti sempre di chissi hanno sbagliato a chissi a chissi e ancora la storia va a far nascere come va a far nascere? non c'è ancora molto, è tutto un acido chissi e tre poi? ogni tanto facciamo la cosa ogni tanto facciamo la cosa qualche volta hanno fatto la cocotta insomma, l'osservazione è che in una stessa rida di terra che si piccina ha cacato il cazzo e ha riunato tutto il mondo e ora ho capito perciò un anno e me come farneva di vedere il telegiornale ogni giorno prima di andare a dormire gasta male la morte di Cristoforo Colombo